parlare di giannacci per me è come parlare del mio cuore perché giannacci è soprattutto milano la milano di una volta la milano dei miei nonni di mia mamma ed è una milano che parlava ancora in dialetto giannacci forse l'ultimo artista per definirlo un cantante è troppo poco che ha avuto una fama nazionale parlando e cantando quasi sempre in dialetto c'è una canzone che mi commuove moltissimo che è il main di ris dove lui ricorda la casa in cui è nato ricorda con grande nostalgia la milano delle periferie dei cortili che poi era anche un po la milano della canzone di celentano di via gluck ma c'è anche un giannacci che ha una capacità straordinaria di sbeffeggiare il potere e lo ricordo soprattutto in una canzone meravigliosa che ho visto un re che gli annacci scrisse con dario fo dove alla fine dice l'importante è che il popolo rida che sia contento perché i capi principi vogliono che il popolo rida perché se il popolo è triste si mette a pensare e comincia a capire anche di quante cose non vanno bene sempre allegri dobbiamo stare gli annacci ha raccontato un mondo che non soltanto non c'è più ma non c'era già più quando lo cantava lui la milano dei suoi tempi delle sue canzoni era già finita purtroppo quando lui quando lui la cantava ma è un qualche cosa che rimane di immortale soprattutto per chi ama milano perché in quelle canzoni c'è il dna di un popolo di una gente di uno spirito che mi permetto di dire fa ancora oggi di milano l'unica città davvero europea d'italia grazie grazie